quindi noi con questo interruttore facendo così è chiuso così aperto no viceversa una volta schiacciato ci impiega più o meno 10 15 secondi ad aprirsi del tutto la valvola qui c'è una presa usb io ho riempito riempito ho messo veramente ovunque queste prese usb 12 volt perché sinceramente a 220 non uso praticamente nulla in questo camper se non il computer che ho fissato qui che comunque attacco all'inverter che poi vi farò vedere il computer ho deciso di metterlo qui perché mi sembrava il posto più comodo l'altra scelta sarebbe stata sotto il tavolino però appunto avrei dovuto rinunciare lo spazio per la padella forno ok proseguiamo lavori lavoretti questo rubinetto che mi ha trovato e montato l'allestitore di cui sono veramente molto molto contento un robinetto eccezionale funziona molto bene noi lo smanacciamo tutti i giorni a destra sinistra in su e in giù a questo manico in gomma che appunto permette di essere posizionato come si vuole miscelatore unico ed è veramente comodo tant'è che lo abbiamo messo uguale anche in bagno che poi vi farò vedere questo è un altro accessorio che ho costruito io e non è altro che una cappa una cappa aspirante obliqua tipo sullo stile di quelle delle cucine ed albergo perché le cappe quelle diciamo a soffitto a te sinceramente io l'avevo prima nell'altro mezzo ma non funzionava non tirava sui fumi nei grassi e me qualche settimana sul soffitto si sentiva proprio l'unto quindi ho creato comprando due ventole le più grandi e potenti che ho trovato su amazon ne ho messe due una sopra l'altra su questo telaietto di legno collegate con questo interruttore alla 12 volt che ho preso da dentro il pensile proprio su questa luce questa luce ha due intensità e l'ho scelta così anche se un po vintage perché essendo sopra i fuochi è comoda da lavare da pulire quindi queste sono tutte cose che bisogna secondo me tenere in considerazione quando si scelgono le luci per esempio per la cucina perché inizialmente è stata installata una luce come questa che è touch touchscreen molto bella molto scenografica però voi potete ben immaginare per pulire e per lavare una cosa del genere era un incubo quindi l'abbiamo tolta e abbiamo scelto una plafoniera magari non così bella ma sicuramente più pratica poi questi sono i classici pannelli che si comprono all'eurobrico di finta pietra in realtà sono in pvc con cui ho rivestito la parete della cucina e ci ho costruito questo porta spezie quindi ho prima preso le spezie i vasetti ho preso la misura e poi ci ho costruito il il porta spezie con queste due stecchette di legno che danno un po di elasticità ma non permettono nelle buche alle spezie di saltare fuori qui ho fatto il porta scottex sempre fatto da me questo l'ho costruito in un modo con una mano in un modo un po particolare allora ho fatto un solco innanzitutto che si può vedere qua così dove il il bastoncino cade dentro vedete così e teoricamente non potrebbe uscire da questa per inserirlo va a filo di questo pannellino di pvc e quando cade ecco si incastra quindi ha la stessa lo stessa forma anche da questa con due semplicissimi pannellini di legno fissati con le staffette ad elle ed è super resistente e lo scottex nelle buche non salta fuori mensolina porta spugnette detersivo e questo è una figata assurda è un piezzo che si ricarica usb vedete che ha i pallini che indicano la ricarica una specie di piccolo taser quando si schiaccia fa nessuno so se si vede ecco fa la scossa e serve per accendere il gas senza diventare matti con i piezzo quelli a scintilla che delle volte insomma non funzionano non prendono il gas con questo devo dire che lo prende subito ok qui sotto ho chiesto due cassettoni belli grandi dove mettiamo tutti i piatti e scodelline varie qui sotto invece le altre padelle le due moche eccetera chiaramente noi non abbiamo voluto cose enormi perché crediamo nella nell'idea minimalista quindi quel poco che ci serve per cucinare per stare bene senza riempirci di cose che poi ballano nei mobili proprio perché sono poche quindi è meglio avere le cose magari un pochettino schiacciate poche cose funzionali che non avere magari cassettoni grandi e poi riempirli di cose inutili per non far ballare le cose ok un piccolo cenno ad un lavoro che ho fatto io e che ho visto praticamente nessun allestitore fa e secondo me invece è molto molto importante allora qui abbiamo una co-inventazione sia in pannelli rigidi di arma flex tipo polistirolo poi c'è una parte di poliuretano espanso nelle nei montanti di carrozzeria perché ovviamente lì dentro non si poteva mettere il pannello rigido e in più nelle portiere e solo nelle portiere dove ci sono i cavi di passaggio delle serrature la lana di vetro che a differenza di quello che dicono per quel che mi riguarda non è assolutamente vero che si inzuppa di condensa anzi io l'ho aperto dopo tutto l'inverno la primavera ed erano sempre belle asciutte quindi direi che funzionano perfettamente nonostante questo però dentro il pensile si viene a creare diciamo una sorta di microclima quindi quando qua fuori soprattutto in inverno si mantengono i 22 23 gradi anche qua dentro il caldo non arrivava perché veniva diciamo un po condizionato dal contatto con l'esterno no anche nonostante la co-inventazione qui dentro si creava una temperatura più fredda quindi sia il piccolo termometro della truma sia gli alimenti che sono dentro subivano questo freddo la truma mantenendomi una temperatura che spesso volentieri non era come quella che avevo impostato e poi anche per una distribuzione comunque più omogenea del calore io ho fatto questo ho fatto dei bucchi con una semplice sega tazza ci ho inserito dentro queste queste grigliette rotonde che secondo me sono anche abbastanza carine da vedere non sono brutte e queste consentono all'aria calda di entrare e di mantenere una temperatura un po più omogenea sia nel camper che dentro i pensili e li ho fatti sia su questo pensile qui cioè su tutti i pensili che sono a contatto con la carrozzeria quindi questo non era necessario questo nemmeno perché è comunque staccato dalla carrozzeria mentre invece dietro dopo vi farò vedere anche lì ci sono tutte le prese d'aria sono le finestre che vengono montate secondo me di più sui camper mi par di capire che siano quelle che montano un po tutti a dire la verità la prima volta che si manovrano queste levette e anche questo pistoncino che non ha dei click clack come le finestre a compasso classiche non danno proprio l'idea di essere molto resistenti in realtà però poi vivendoci dentro utilizzandole da ormai un anno devo ricredermi perché devo dire che non hanno mai avuto nessun tipo di cedimento chiudono molto bene e nonostante questa sensazione in realtà sono molto resistenti qui c'è il classico oscurante ecco questo un sistema che non mi piace molto però fatto così per tirar giù l'oscurante senza tirarsi dietro la zanzariera bisogna prima aprire qua poi schiacciare e poi eventualmente si fa scendere la zanzariera non è un sistema così pratico secondo me perché vedete se io adesso per esempio andassi a tirar giù l'oscurante si tirerebbe dietro la zanzariera boh non non mi piace ancora molto sto sistema però vedo che lo mettono tutti quindi va bene tornando al mobile cucina abbiamo questo pensile che io utilizzo per stivare tutte le scatolette ho fatto questa mensola anche qua non proprio bellissima da vedere ma resistente dove io metto tutte le tutte le latte in questa posizione l'ho fatta dell'altezza giusta in modo che le latte non possano cadere fuori si bloccano qui per tirarle fuori bisogna metterle in oblico quindi perfetto funziona benissimo e mentre vabbè qua sotto insomma caffè olio e quant'altro abbastanza blocca come porta pezze ho utilizzato questo sistema qui che avevo fatto anche sul camper che avevo prima e funziona molto bene perché la pezza rimane all'aria quindi si asciuga essendo infilata sul bastoncino non non fa rumore quando si si viaggia ed è a portata di mano sempre comoda e oltretutto cosa da non sottovalutare la pezza così evita quando si entra o si esce dal camper di battere con la testa contro il legno cosa che all'inizio insomma succede proprio perché come vi dicevo ora non so se rende molto quest'idea in questo video però la parte alta dei pensili chiude un po' sul centrale del camper rispetto al ducato quindi le zuccate all'inizio si danno poi una volta prese le misure in realtà non più però ecco questo è un deterrente perché quando con la testa si sente la pezza ci si ferma e non si prende la zuccata ok direi di proseguire con questa scelta ossia il vc che è un semplice vc porta poti come vi dicevo non a cassetta estraibile lo abbiamo costruito proprio al limitando al massimo lo spazio quindi qua dentro ci si sta seduti perfettamente con le ginocchia anche con la porta chiusa ecco adesso ho spento la luce accendiamo la luce adesso io sono seduto veramente comodo sul vc e do le ginocchia vedete al limite della dello spazio quindi è proprio costruito su misura questo lavandino che oltre che essere molto bello secondo me è anche molto utile perché è facile da lavare può girare quindi anche esternamente può essere lavato facilmente rubinetto uguale a quello della cucina come vi dicevo stra comodo stra pratico per lavarsi i denti per lavarsi le mani per farsi la barba mille posizioni comode dispenser sapone sempre comprato su amazon se lo da un anno e se si romperà lo ricomprerò perché è veramente fatto bene non si è mai intoppato ha sempre funzionato molto bene da qua sopra si ricarica si mette il sapone liquido qui altre due prese usb io utilizzo tantissimo questi cavi usb allungabili hanno questa questo avvolgicavo a molla che è comodissimo perché se io devo ricaricare appunto il rasoio piuttosto che la piastra della morosa posso mettere tutto in carica qua e poi quando non mi serve più tiro si riavvolge e non mi disturba quindi un cavo avvolgibile sempre molto comodo tornando al vc questo è quello nuovo della tetford che ha è diviso in due parti come tutti i porta poti qui sotto ci sono le acque nere qui invece c'è un carico abbastanza grande di acque chiare per tirare l'acqua insomma qui si fa il pieno di acqua e questo invece serve per proprio tirare l'acqua quindi adesso vi faccio vedere un classico funzionamento a pompa c'era anche il modello con la pompa elettrica però altro non era che una pompa che aveva dentro delle batterie si schiacciava il pulsante e tirava l'acqua cosa che io reputo assolutamente inutile anche perché poi dopo bisogna sempre ricaricare le batterie e se ti trovi senza batterie non puoi tirare l'acqua scoppettino vc sempre comprato su amazon rialzato da terra importantissimo per poter pulire bene tutti gli angoli io ho utilizzato tantissimo queste tasche che in realtà ho trovato dai cinesi le ho tagliate cucite su misura e poi ho messo questi anelli con l'anellatrice per poter agganciare ai gancetti classici qua e devo dire che vibrazioni insomma c'è su un bel po' di peso adesso vedete profumi bottigliette sia qua che tutte queste tasche qui per vari disinfettante cerotti autan e oli vari e non si è mai mosso quindi devo dire che nonostante i cinesi di solito non facciano cose molto durature nel tempo invece queste devo dire che funzionano molto bene vedete le abbiamo messe anche qui qui c'è un pensile col suo bel specchietto questo sono io dove qui anche possiamo stivare della roba e poi qui c'è un piccolo vano che vedete in realtà visto così sembrerebbe semplicemente una botola chiusa in realtà io l'ho modificata per metterci dentro altre robe un po nascoste qui altro non c'era che lo scarico del lavandino quindi per i ladri sapete dove andare a cercare i sacchetti del vc quando entrerete nel mio camper vabbè porta rotolo cartagenica classico questo è il vc ed è esclusivamente vc chiaramente qui ho scelto la finestra che lascio sempre un pochettino aperta anche in inverno uno per un cambio di aria che insomma nel locale vc male non fa e due perché d'estate in realtà qua si creerebbe altrimenti una sauna se non ci fosse quella finestra che è veramente comoda ultima uno degli ultimi lavoretti che ho fatto è stato proprio questo tubo che sembra il classico tubo di canalizzazione della truma in realtà è un phon che ho fatto vabbè semplicemente canalizzando l'aria della truma fuori da questa bocchetta che passa dietro al vc questo è il classico tubo corrugato e cartonato di canalizzazione della truma però quello più piccolo a cui ho infilato e ci stava giusto giusto questo tubo di plastica che sicuramente molti di voi conoscono perché altro non è che quel picchetto diciamo fatto a vite che serve per infilare l'ombrellone nella sabbia in spiaggia l'ho tagliato qui ci sarebbe la spirale diciamo qui che scende quella che va infilata nella sabbia l'ho tagliata con un seghetto qui ho un pochettino chiuso il tubo in modo che faccia un po di direzione l'aria e ci stava giusto giusto dentro il tubo della truma e poi ci ho avvitato questa piccola staffetta perché questo qui quando fendere la truma al massimo scotta e questo è il phon che da tanti mesi la mia ragazza mi chiedeva perché non sapeva come asciugarsi i capelli dopo la doccia devo dire che funziona benissimo cosa devo fare mettere la temperatura della truma al massimo mettere la se riesco così la ventola al massimo chiudere le tre bocchette altre che sono quella del bagno quella del corridoio della scarpiera in realtà ce n'è un'altra anche lì sotto quindi tutta l'aria esce alla massima velocità da quella da quel tubo e quindi si crea una potenza molto forte di aria accessori che abbiamo scelto piastra per capelli ricarica usb si ricarica naturalmente arriva fino a 200 gradi quindi temperatura più che valida chiaramente non è una piastra professionale però un pochettino il suo lavoro lo fa il phon l'abbiamo già visto rasoio che si ricarica invece con l'inverter alla 220 quindi abbiamo deciso di creare di dedicare questa parte solo al vc con lavandino mentre la doccia che era una delle cose principali per cui ho scelto di rifare il camper diciamo allestito personalizzato era proprio il fatto di avere la doccia separata che poi vi farò vedere ma prima vi faccio vedere il mobiletto che ne è avanzato tra diciamo il il bagno e il letto l'armadio in cima è stato messo il classico pannellino di controllo che non sto a spiegarvi perché sicuramente lo conoscerete già qui mensolina insomma spazio di stivaggio siamo sempre portati a riempire gli spazi quindi più spazi abbiamo e più li riempiamo ho montato questi gancetti per appendere giacche giacchette varie soprattutto in inverno quando sono bagnate e niente la parte sotto invece dell'armadio beh qui abbiamo creato questa mensolina che è molto comoda quando si va a letto per appoggiare appunto anelli orecchini vari dell'amoroso oppure una bottiglia d'acqua o diverse cose insomma una mensolina vicino al letto secondo me è sempre comoda questo spazio sotto invece l'abbiamo dedicato completamente ai cani qui ci stanno praticamente misurate due sacchi di crocche da 15 da scusate da 12 chili e mezzo per i cani quindi abbiamo un'autonomia di più o meno tre settimane e dentro c'è tutto l'apparato elettronico carica batterie apposta per le batterie al litio vabbè pannelli con tutti i vari fusibili salvavita tutto l'impianto elettrico fatto a norma e il famoso inverter che è collegato direttamente alle batterie al litio che sono qua dietro sotto il letto a cui ho attaccato una semplice prolunga con la presa 220 che utilizzo praticamente solo la estraggo solo quando devo lavorare al computer e devo dire che con le due batterie al litio da 100 ampere mi è veramente cambiata la vita rispetto alle agm per una serie di motivi infiniti che non vi sto qua elencare perché penso che se ne è parlato a sufficienza nei vari gruppi video di youtube eccetera è veramente un altro andare con le batterie al litio non ci si preoccupa più più di tanto almeno e si possono abbattere praticamente quasi del tutto e danno un'autonomia veramente infinita per quel che mi riguarda due batterie da 100 ampere sono per noi un relax mentale ecco per quanto riguarda l'energia bene io passerei alla chicca di questo camper alla cosa che secondo me ha più valore sia funzionale che anche estetico in questo camper che è la doccia allora questa è la porta esterna e anche qui ho voluto farci le due prese d'aria come nei pensili in alto ma in più ci ho installato io questa griglia ulteriore per il passaggio dell'aria perché altrimenti la cabina doccia veniva isolata sia dal calore diciamo in inverno che c'è dentro il camper quindi ogni volta che andavo a fare la doccia era abbastanza fredda ma anche per un sano ricircolo dell'aria che deve comunque esserci anche perché dentro ci ci sono adesso vi faccio vedere gli asciugamani allora questa è la doccia vedete che è un bel piatto doccia questo purtroppo è il passaruota che non si poteva chiaramente togliere abbiamo dovuto accettarlo ma in realtà non dà nessun fastidio perché lì ci si sta solo con i piedi lì vabbè abbiamo installato il classico porta saponi con la ventosa perché tutto questo tutta questa parete è fatta tutta in vetro resina e quindi non volevo bucarla con delle viti anche questi appendi abiti sono tutti a ventosa con colla quindi molto resistenti noi lasciamo gli asciugamani qua dentro durante il giorno perché appunto lasciando la finestra aperta l'aria e il ricircolo c'è e questi si asciugano miscelatore qui abbiamo il porta doccino che purtroppo ho dovuto sdoppiare perché questo mi tiene la doccia in modo che non cada durante il viaggio però non è comodo quando si fa la doccia mentre invece questo è comodo quando si fa la doccia perché mi porta il doccino all'altezza giusta però da qua il doccino salta fuori durante le vibrazioni quindi ogni volta lo devo mettere qui e devo ricordarmi altrimenti mi cade questo è un po magari col tempo si cambierà nonostante ci sia l'oscurante classico qui per la privacy della finestra io non posso permettermi che l'acqua della doccia vada all'interno del rullo quindi ho creato questa tendina che semplicemente con un po di velcro rimane attaccata alla finestra e quindi mi concede di fare la doccia tranquillamente insomma all'interno ho messo oltretutto questa tendina perché perché nonostante questa porte sia stata furbamente costruita in questo modo quindi ha la chiusura interna ha una sua guarnizione qui come si può vedere questa guarnizione qua però purtroppo soprattutto lì in basso fa un pochettino di pancia perché comunque legno e quindi solo la porta da sola purtroppo mi faceva uscire un po di acqua sul pavimento quindi ho deciso attraverso questi due cavetti ce n'è uno qua e uno lì sotto di creare questa tendina che è velocissima da mettere scorrevole vedete va così e va a coprire la porta quando faccio la doccia non è una tendina di quelle scomode che si appiccica al corpo che la odiavo veramente nel camper che avevo prima ma è una tendina che semplicemente protegge la porta e non non dà fastidio qui dietro ho attaccato il mocio che è il posto proprio perfetto perché innanzitutto quando è bagnato chiaramente scarica nel piatto doccia quindi non dà nessun problema è un posto diciamo adatto al mocio che usiamo tantissimo per passare il pavimento durante le nostre avventure su sterrato comunque quando i cani hanno le zampe sporche eccetera quindi altro strumento che secondo me è comodo ho dovuto mettere questa levetta in più ulteriore per tenere chiusa la porta perché non so bene per quale motivo dinamico fisico ma con la finestra aperta durante la marcia nonostante questa levetta non sia proprio facilissima da girare probabilmente con le vibrazioni col vuoto d'aria non lo so cosa succedeva durante la marcia questo chiavistello piano piano si apriva e noi ci ritrovavamo con la porta aperta quindi non abbiamo ben capito il perché faccia questa cosa perché chiudendo la finestra in effetti non lo faceva più però appunto d'estate soprattutto lasciamo sempre la finestra della doccia aperta ho dovuto installarci questa levetta che anche qua a livello estetico non è bellissima però come solito è funzionale qui abbiamo il box dei cani che poi spiegherò separatamente qui abbiamo il letto che si alza a libero sotto ho la mia tastiera la mia tastiera che amo suonare in riva al mare davanti a un tramonto lì c'è il telo copri vetro termico lì lo spazio per il tavolino che adesso è montato fuori e ora l'ho messa dentro il nylon per proteggerlo un po' sotto il materasso abbiamo quella che noi chiamiamo la dispensina che è un vano dove mettiamo le cose un po' olio cartegenica scottex spugnette caffè pagliette insomma tutte le cose che possono servire di ricambio sia da questa che da questa qui invece c'è un po' di attrezzatura varia il filtro per la cappa di ricambio altri cavi usb a molla velcro insomma calamite varie eccetera quindi cosette che possono sempre servire in viaggio ma che non non si utilizzano tutti i giorni ok letto un metro e trenta di larghezza per un metro e 73 se non sbaglio di lunghezza quindi ripeto io sono alto un metro e ottanta sicuramente lì se mi estendo del tutto tocco con i piedi però ripeto era la paura iniziale che avevamo camperizzando questo mezzo invece devo dire che io mi trovo benissimo perché comunque dormo un pochettino con le gambe rannicchiate sempre quindi mi trovo comunque bene anche qui ho installato delle doppie prese usb qui anche dietro la dietro ce ne sono due dietro cuscino anche per il carica cellulare e qui sopra anche abbiamo due pensili sempre vedete arieggiati sopra la testa uno laterale e due più alti nella zona dei piedi qui sotto ho voluto ho chiesto mi facessero una mensolina per appunto mettere i cellulari le cose insomma che si utilizzano di notte qui c'è la cassa usb qui è questa è una luce modulata diciamo con a cui io in realtà ho installato in modo un po grezzo però funzionale anche qui dello scotch americano nero che mi creasse un po più di oscurità quindi era troppo forte questa luce e quando siamo a letto ci piace una luce veramente molto leggera molto soffusa e quindi l'abbiamo un po oscurata pensili secondo me è necessario se si vive in camper avere tutti i lati diciamo coperti è chiaro che se ne paga un po in termini di aria di vivibilità però poi ci si abitua sinceramente non è una cosa che soffriamo in questo pensile qua dietro ho messo tutte le cose elettroniche barra elettriche come il drone i vari power bank frontalino ventola e quant'altro qua dentro ci sono vediamo se riesco a inquadrarla ecco lì ci sono altre prese usb da questa e un'altra presa usb lì sotto quindi io spesso metto delle cose in carica lì dentro come il drone come il frontalino insomma tutte le cose che devo lasciare in carica chiudo il pensile e posso viaggiare tranquillamente senza lasciare le cose sul letto come facevo invece prima per ricaricarle mentre invece queste prese qui sono comode proprio perché si attacca il cellulare si tira il cavo si appoggia il cellulare qui sopra e non dà fastidio quando si dorme insomma beh questo è un materasso che io ho ordinato su internet su misura nonostante questo ho dovuto tagliare qui i due obliqui perché il sedere diciamo del del mezzo è chiaramente ai due montanti obliqui e quindi ho dovuto tagliarli col 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 cutter e poi farci questo coprimaterasso su misura ho sempre anche questo cucito io a me piace lavorare con la macchina da cucire come anche tutte queste tendine allora queste tendine hanno la funzione oltre che oscurante anche un pochettino termica d'inverno aiutano parecchio a non fare entrare gli spifferi da dalla porta quando si dorme quindi sono molto comode ho voluto la finestra solo dalla parte della testa quindi solo dalla parte della testa mentre nel camper di prima avevo la finestra anche qui non l'ho voluta primo perché non la praticamente non la usavo mai e secondo perché lì fa una dispersione di calore veramente importante soprattutto quando si dorme d'inverno meno 15 meno 20 si sente è vero che si potrebbe installare uno di quei di quegli oscuranti termici anche qui però è veramente scomodo e brutto secondo me e quindi ho preferito lasciare proprio la portiera chiusa co-inventata e devo dire che d'inverno me ne accorgo mentre qui dove c'è la testa è bello chiaramente aprire ogni tanto la finestra e godere del panorama che c'è dietro allora per dare un'idea a chi avesse mai in mente di trasferirsi in camper noi in questi quattro pensili abbiamo tutto quello che ci serve sia per l'estate che per l'inverno questi due sono miei questi sono di nicole e ci bastano anzi delle volte abbiamo addirittura ancora all'interno cose che non mettiamo quindi possiamo renderci conto di quante volte di quanto in realtà a casa utilizziamo gli armadi solo perché sono grandi li riempiamo di cose che però mettiamo veramente poco e quindi in camper sarebbe spazio inutilizzato facendo così il minimalismo ti impone di selezionare i vestiti che utilizzi le cose che utilizzi metterle dentro sempre con un certo metodo perché chiaramente se si crea casino poi ogni volta che si apre il pensile salta fuori tutto però così facendo riusciamo a non farci mancare nulla in poco spazio questo è l'oblò di cui vi parlavo prima sopra il tetto è un oblò piccolo è un oblò che però in estate aprendo quello e aprendo la finestra si crea un ricircolo d'aria quindi c'è un vero e proprio giro d'aria ed è più che sufficiente per rinfrescare questa zona non resta che parlare dello spazio quella che noi chiamiamo la cameretta dei cani che adesso vediamo solo in piccola parte qui questo è il box dei cani quindi tutta la parte sotto il letto l'abbiamo sacrificata diciamo così dedicata ai nostri cani perché vogliamo che stiano comunque bene questo è il loro box ora so già che c'è chi dirà no il cane nel box poverino in realtà il box sia per il viaggio sia per il riposo è uno strumento necessario soprattutto per determinati cani i miei i due lupi cicoslovacchi questo strumento è non utile ma assolutamente necessario e fondamentale è un box coinventato quindi quando fuori fa caldo in realtà questo è il posto più fresco infatti loro ci salgono da soli perché adorano stare al fresco a un'entrata come vedete nel corridoio e un'entrata un'uscita un'entrata anche da dietro esterna che primo perché in viaggio c'è un discorso di sicurezza quindi in caso di frenata o di incidente i miei cani sono protetti all'interno secondo perché vivendo in camper c'è bisogno anche di organizzarsi noi abbiamo i cani che delle volte sono pieni di fango di sabbia di terra o comunque sporchi delle volte si rotolano anche sopra a dei cadaveri o sopra delle cacche e quindi non è proprio piacevole averli liberi per il camper o addirittura sul letto nonostante io appunto abbia rivestito tutto in ecopelle questa parte è fondamentale altrimenti diventerebbe invivibile ma sicuramente non per ultimo c'è il benessere del cane ossia le ore di riposo perché non è che stanno lì dentro sempre come avete visto adesso i miei cani sono fuori vedete tranquillamente al sole ecco però nelle ore di riposo per loro è importante avere diciamo un effetto tana che gli consenta di rilassarsi se io li lasciassi liberi per il camper sarebbero probabilmente sempre alla finestra controllare chi passa a creare territorialità da baia quindi per questioni proprio di benessere gli dedichiamo uno spazio adatto al riposo oltre alle ore di viaggio per cui loro lì dentro stanno veramente benissimo e ve lo faccio vedere però anche da dietro per rendervi conto delle dimensioni ok passiamo al retro di questo box di cui vi parlavo adesso il box è aperto questo è il telo termico che vi dicevo per il vetro qui abbiamo creato delle degli vani per le cose dei cani qui c'è uno spazio di stivaggio che per me è fondamentale al cui interno mettiamo i cunei mettiamo il tarp mettiamo la pala le catene la canna dell'acqua per il carico e due sgabelli molto molto comodi che adesso magari vi faccio anche vedere se riesco con una mano chiusi sono in realtà questo adesso è leggermente aperto chiusi sono veramente piccoli si aprono in questo modo e una volta appoggiati ci si può sedere sopra per mangiare o per insomma in qualsiasi situazione quindi sono molto molto comodi è più o meno un metro e trenta lungo è largo mi pare un metro e dieci se non sbaglio e da un'altezza di 80 centimetri quindi è una vera e propria stanza per due lupi cecoslovacchia molto grande qui all'interno c'è il vano per la bombola da 10 chili l'accesso è qui dove c'è questa porticina più internamente c'è il serbatoio da 100 litri di acqua potabile il vano della bombola l'ho lasciato così difficilmente accessibile perché tanto una bombola da 10 chili a noi che la usiamo solo per cucinare praticamente perché il riscaldamento è a diesel ci dura praticamente quasi un anno una bombola quindi se una volta all'anno devo sfilare il box per cambiare la bombola non è un problema da questa invece abbiamo va bene questo spazio di stivaggio e dietro invece ci sono le due batterie al litio che sono ben nascoste lì dentro anche lì c'è un vano di accesso in fondo basta sfilare il box e ci si accede facilmente io ho voluto rivestire la parte bassa dei portelloni con questo pvc bianco sia per una questione di pulizia e anche di mi piace esteticamente insomma sia da una parte che dall'altra per aprire la porta dall'interno ho architettato questo marchi ingegno che altro non è che una chiave che ho saldato al perno della serratura che ho dovuto smontare perché inizialmente il perno originale del daily è spesso più o meno questo spessore qui quando chiudevo andava a toccare sul box dei cani quindi l'ho tolto ci ho messo una cosa piatta cordino che dal letto si può tranquillamente alzare ed apre la serratura questo è fondamentale secondo me perché in una situazione magari non so nemmeno io quale ma di emergenza dove la notte o quando si è sul letto bisogna uscire velocemente questo ti dà e ti permette di uscire da dietro saltando giù altrimenti si è bloccati diciamo nella camera da letto queste due tendine sono oltre che essere come dicevo prima una barriera termica e oscurante quando si aprono i portelloni posteriori e piove questi queste tendine evitano che il materasso si bagni il tavolino e le sedie che prima non avete visto ne abbiamo montate qua fuori e questo è il tavolino che abbiamo preso alla decathlon però sinceramente mi sono un po pentito di averlo preso perché quel modello che si chiude a libero a qui il blocco per carità è bello grande una volta aperto ci si sta veramente molto larghi però appunto per due è anche troppo grande e è un po così macchinoso da chiudere da da stivare qui non è aperto bene aspirapolvere che non è un aspirabriciole ma una vera e propria aspirapolvere per via della potenza sempre a ricarica usb type c comprata sempre su internet ora mi sembra questa su banggood non su amazon perché viene direttamente dalla dalla cina devo dire che è stato un ottimo acquisto qui in fondo abbiamo una macchina da cucire portatile piccolina però anche quella funzionale per le per i piccoli lavoretti ricca siete degli attrezzi avvitatore e cacciavite con tutti i suoi inserti da avere sempre dietro queste anche sono state un acquisto molto valido sono delle luci esterne calamitate quindi adesso vabbè le attacco un attimo qua dentro una volta appoggiata alla carrozzeria rimangono attaccate hanno il loro pulsante e fanno una luce veramente forte ne ho prese due che quando ci mettiamo fuori la sera a bere il caffè sono molto comode e niente questi sono un po i nostri accessori le nostre scelte le nostre rinunce ripeto queste sono secondo me le le cose necessarie per vivere in camper chi ha un camper e lo utilizza per le vacanze per i and per poche uscite sicuramente non farà queste scelte come per esempio il vc magari porta poti con più capienza piuttosto che due batterie al litio tutti quei pannelli solari non servono ma per viverci per viverci è necessario avere l'autonomia secondo me e tutti questi piccoli queste piccole attenzioni questi piccoli accrocchi che facilitano la vita e niente speriamo che questo video abbia chiarito l'idea molti e suggerito magari delle idee ad altri e niente vi salutiamo dalla val di fiemme è tutto a voi studio